Il maestro al monastero I tornanti si susseguivano uno dopo l'altro e l'aria diventava sempre più rarefatta man mano che si saliva. L'estate maturava e il caldo delle giornate recava un'afa opprimente. Il maestro aveva tirato su le maniche del trench ed indicava con l'indice la strada all'amico, quasi a volergli spiegare ogni singola curva. Il poeta guidava con non curanza la sua vecchia auto che arrancava per la strada. La caloria dell'acqua saliva, il radiatore sbuffava borbottando e i sedili cigolavano ad ogni piccola malformazione dell'asfalto. Erano liberi. Non si vede il mare, disse il poeta riafferrando il volante scappato via nel bel mezzo di una curva e dopo aggiunse. È distante. Il maestro raccolse dal cruscotto un sassolino, lo salvò per un attimo e dopo lo cacciò in tasca. Poi si rivolse all'amico poggiandogli una mano sulla spalla e disse. Non chiedermi che giorno. Il poeta continuò. Non ne odo il rumore dell'onde. È distante. Il maestro comprendeva il significato di quelle parole e rispose. Non ho traccia del tempo che mi scorre veloce, che procede più lento. Insomma, arrivarono al bar delle Alte Palme e scessero dall'automobile. La giornata era limpida e adesso che erano in collina potevano respirare un'aria pulita. Appena entrati furono osservati dai pochi presenti. Procedevano lenti con passo sicuro, guardando un unico punto in alto, lì dove era stata collocata una testa d'alce in guisa di trofeo. Sembrava che nulla potesse distrarli. Ogni tanto si scambiavano occhiate veloci, si studiavano. L'uno pensava di conoscere cosa stessa immaginando l'altro e agendo di conseguenza tentava di stuzzicarlo e di indurlo a chissà quale comportamento. Era un gioco sottilissimo come la tela di un ragno. Il maestro si approssimò al bancone e fu subito accolto dall'attenzione della barista che chiese con garbo cosa prendessero i signori. Acqua fu la risposta. La barista lo guardò perplessa con un'espressione quasi delusa da quella semplice ordinazione. Il maestro capiva quello sguardo e volle spiegarle. Sai indicarmi qualcosa di più essenziale dell'acqua? E poi senza tendere una risposta proseguì. Non bisogna dimenticare la nostra natura. Noi siamo acqua e in quanto acqua essenziali. Poi rimangono la carne e le ossa ma non contano. Non possono fluire. Sono il rigido contenitore che racchiude l'essenza e io ne avverto il movimento. Bevo acqua in quanto tendo all'essenza. La ragazza non osò più guardare il maestro che intanto si allontanava con gli occhi sgranati e il bicchiere di vetro in mano verso l'esterno del locale. Il poeta aveva acceso una sigaretta e ne soffiava il fumo in direzione del campanile del monastero, non molto distante da loro. Osservava l'antico edificio attraverso le lenti da sole ed il suo volto aveva assunto un'espressione di velato interesse. Il maestro si accostò all'emico che gli dava le spalle e gli disse che bevi. Il poeta si voltò ed indicando il monastero rispose andiamoci. Acqua ma con limone. Si incamminarono a piedi ma prima il maestro aprì il portabagagli della vecchia automobile e cacciò fuori un involto di carta da imballaggi. Era un piacere camminare. Ovunque si guardasse si era inondati dal verde e gli uccelli intonavano i loro cori che si tramandavano da padre in figlio. Gli alberi enormi giganti sorvegliavano il lungo sentiero che culminava nell'immensa mole del grigio monastero. A metà strada incontrarono una statua posta su di una savonarola che pesava a sua volta su un blocco di marmo. Il pedestallo era cinto da un cancelletto e la figura di bronzo aveva perso i colori originari ma ancora teneva il braccio teso ad indicare l'edificio. Sulla testa dell'edificio spiccava il triregno papale ma l'iscrizione sul marmo era ormai illeggibile. Il maestro spinse il cancelletto che si aprì stridendo. Entrò e ad occhi chiusi poggiò la mano sull'iscrizione cercando di leggerne il rilievo corroso del tempo. Dopo poco ritirò il braccio e disse è un papa. L'abbazia si mostrava enorme, imponente, isolata. Non si avvertiva la presenza di anima viva ma dal mezzo portone dischiuso fuoriuscivano dei canti sommessi. Il luogo era immerso in una quiete e la facciata guardava in direzione del golfo, lì dove di sicuro doveva esserci il mare. Un senso di mistico alleggiava nello spiazzo antistante l'ingresso. Il poeta indicò l'antico portale e disse all'amico entra. Una volta superato l'ingresso era l'incenso a farla da padrone e i suoi fumi narravano storie tra i riflessi del marmo alla flebile luce pomeridiana. Ora camminavano l'uno al fianco dell'altro in direzione dell'abside. I loro passi trovavano un eco sorda nella grande navata centrale e il ritmo scandito dagli stessi aveva qualcosa di ipnotico. Fu proprio allora che il maestro tolse la carta del suo involto liberando nell'ombra un vaso che posò sull'altare maggiore proprio nel punto in cui dalla vetrata del soffitto penetrava una lama di luce ambrata. Ecco questo è il posto, un contenitore racchiuso in uno ancora più grande. Intanto il poeta lo aveva raggiunto e carezzava la testa di un putto di marmo posizionato presso l'altare. Sognava, rapito dai profumi e dalle luci discrete. Cercheva dei versi. Li vedeva scivolare tra le pieghe del marmo. Vennero scossi da una vocina acuta, quasi stridula. Non erano soli. Una tunica nera si avvicinava verso di loro ripetendo con una certa eccitazione. Mi ha mandato la Madonna. Sì, proprio la Madonna. I due si voltarono a guardare il loro inatteso ospite. Si trattava di un vecchietto sulla settantina, non molto alto, magro ma svelto nei movimenti. Il suo volto apriva un cordiale sorriso tra i lineamenti marcati. Le rughe ne indicavano il passare del tempo. I suoi occhi tradivano una luce sinistra. Il monaco si avvicinò ai due e giunto a un palmo da loro ripetè. Sì, sì, è stata la Madonna a mandarvi. Il maestro sorrise e il poeta squadrava l'omino dalla lunga tunica in cerca del demone che lo muovesse. «Perché porti la veste?» chiese il maestro indicando la tunica nera. Il monaco non rispose ed il maestro guardò il portone, constatando che il sole stava calando, e aggiunse «Il giorno muore». Il monaco si rivolse con garbo ai due, poggiando entrambe le mani sulle loro spalle. «Ecco, vedete quella panca? Non riesco a spostarla» e pregavo alla Madonna che mi inviasse un aiuto. Il poeta sorrise, si accostò all'amico e gli disse «Assecondiamolo, ci regalerà l'essenza della decadenza». Così fu, i due presero la panca e la spostarono portandola in un angolo nascosto da una colonna, sotto gli occhi attenti del monaco. Le ombre calavano e il luogo veniva illuminato dai ceri votivi e dalle lampade ad olio accese, con un fruscio silenzioso di vesti, dagli altri confratelli, apparsi come per incanto tra le navate. C'era anche qualche turista che osservava, confabulava e indagava il marmo e i dipinti. La panca fu sistemata e il poeta si tolse gli occhiali per riporli nella propria tasca. Intanto il maestro osservava una teca dove erano esposti i resti di un uomo ormai ridotto all'osso. La teca era di legno ed un tempo avrebbe dovuto avere il colore dell'oro. Dai vetri si potevano scorgere i resti di un teschio che dominava un mucchio di ossa accatastata alla rinfusa, senza alcun ordine. Il maestro ruppe il silenzio e Netto esclamò «È morto!». Quasi all'istante avvertì lo sgradevole odore dell'alito di quel vecchietto in gonnella, che adesso si era appressato alle sue spalle e ritornava a sorridere ai due. «Ecco, sì, sì, vedete? Sono i resti dei nostri padri fondatori, quelli del nostro ordine, che iniziarono la costruzione dell'abazia». Il poeta scelse di intervenire dicendo «ce ne sono altri lì» ed indicò un anfratto della navata destra, poi proseguì. «Tutti defunti e impacchettati in bello stile, per ricordare al visitatore la paura della morte». Il monaco non rispose, non capiva, forse anche egli aveva paura della morte. La figura nera si avvicinò al poeta e prendendolo sotto braccio lo condusse verso l'anfratto, dove erano esposte le altre ossa. Il maestro mostrò un attimo di titubanza, ma il poeta lo richiamò con lo sguardo ed una volta vicino gli disse «hai respirato il puzzo della decadenza, ora comprendine le rovine dei suoi idoli». Vedete, cari ragazzi, questi sono i resti terreni dei fratelli che si adoperarono per la costruzione di questa grande casa del Signore. Poi si riaccostò ai due e spingendoli con garbo sui fianchi, li costrinse a fare qualche passo in avanti ed aggiunse «guardate questo affresco, è il nostro padre fondatore, raffigurato sulla roccia dovebbe la folgorazione e decise di costruire questa grande opera». Non è meraviglioso? Il monaco si fermò, distosse lo sguardo dal dipinto, si voltò verso i due ragazzi e sfoderò un sorriso inquietante dicendo «è stata la Madonna, è stata la Madonna a mandarvi». Il maestro adesso capiva. Alzò lentamente il braccio, indicò il dipinto e si rivolse al monaco. Traducemi questa scritta, che io ne assapori il significato. La scritta era posizionata sotto l'affresco ed era in latino. Il maestro conosceva il latino ma volle ascoltare quelle parole pronunciate da quell'uomo che sembrava uscire da un vecchio dipinto. Il monaco ebbe un attimo di difficoltà, poi lesse la scritta in latino ma zoppicava nel tradurla. Allora il poeta gli chiese «perché non sai tradurla? È un monaco e noi vogliamo il tuo latino, ce lo devi in cambio della nostra opera». Il vecchietto si trovava in difficoltà. Il volto non esprimeva più l'usato sorriso. Adesso chiudeva ripetitamente le palpebra in modo nervoso e veloce e sembrava fissare il niente. I tre si sentirono osservati. I confratelli si aggiravano a testa bassa tra le panche consultando i loro breviari. Sembravano delle sentinelle silenziose che sorvegliavano un qualche strano segreto. Poi l'anziano si riprese dicendo «Una volta qui c'erano i bambini. Si insegnava e li avevamo a collegio». Il maestro portò giù le maniche del trencetto «Sì, con forza». Tutti i presenti si voltarono. Si diresse verso l'altare maggiore, si arrestò per un attimo e poi, deciso, salì i tre gratini che lo dividevano dalla sua opera. Intanto il monaco lo osservava con reverenza. Il maestro allungò una mano e prese il vaso, che adesso carezzava, per sentirne il ruvido dello smalto. Ad un tratto lo portò agli occhi e ne esplorò la cavità. Era il buio. Il monaco tornò all'assalto, quasi eccitato dai movimenti solenni di quel ragazzo, che sembrava indagare ogni singolo aspetto, che sembrava voler capire il significato nascosto di ogni singola cosa. «Sapete, noi qui abbiamo le nostre celle e conduciamo una vita di preghiera e di meditazione. Siamo rimasti in pochi, troppo pochi per un monastero così grande». «Non ci sono le monache?» chiese il poeta, che nel frattempo aveva raggiunto i due. «Non possono entrare. L'ordine non vuole che estranei accedano alle nostre stanze», rispose il monaco e poi aggiunse. «Beh, ma noi siamo diventati amici e potreste venire su nella mia cella?» «Sì, adesso siamo amici». Dicendo queste parole il monaco prese il braccio del maestro ed iniziò a tirarlo verso la propria tunica. Trasudava la scivia da quel movimento. Era un sottile tentativo per testare la tolleranza e la disponibilità dell'interlocutore. Svelava una eccessiva volontà di cercare un contatto. «Tu non sei di qui», disse il maestro e dopo aggiunse «io lo capisco dai tuoi occhi, dal suono delle tue parole». Il monaco rispose «io sono Don Primigi Carrugia da Malta». «Ma non conosci il latino», soggiunse il poeta. «Tu non sei un vero monaco». Allora l'uomo in sottana spiegò «io sono Don Primigi Carrugia da Malta. Venne portato qui circa cinquant'anni fa da un monaco del mio paese. Volevano farmi intraprendere la vita ecclesiastica, ma avevo dei dubbi». «Quali dubbi?» disse il poeta. «Spiega». Allora, impacciato, il monaco disse «non sapevo se fosse giusto per me. Ero timido, ma poi ho conosciuto gli altri fratelli. Mi hanno accudito e sono rimasto ai loro servigi. Avevo dei dubbi». Allora il maestro alzò il vaso che aveva in mano. Lo capovolse e disse «Vedi, non contiene nulla, ma conterrà. Quest'uomo che ci insidia non contiene nulla e nella sua lunga sequenza d'anni non ha contenuto nulla. Non conterrà mai nulla». Poi proseguì. «Io comprendo quello che mi ha indicato, poeta. Ho respirato la decadenza del luogo. Il luogo è decadente, effigiato da idoli che utilizzano le opere dell'uomo per il loro mistero. Per noi non è mistero, è soltanto un vuoto, a cui non serve una costruzione enorme per racchiuderlo. Tale vuoto non verrà colmato mai. In questo luogo non si colma il vuoto, ma se ne crea dell'altro. Chi vi si appressa ne avverte il pericolo». Poi il poeta disse «Vieni, andiamo adesso che hai compreso. Questo non è il posto per la tua opera. Bisogna che il nero di questo edificio non esca alla luce del giorno». Dicendo queste parole lasciarono il monaco dalla lunga tunica e si diressero verso il grande portale che indicava l'uscita. Giunti sull'uscio vennero investiti dagli ultimi raggi del giorno. Il poeta tese il braccio e indicò l'enorme chiave che fuori usciva dalla toppa della porta. L'aria era estiva ed i turisti affollavano lo spiazzo antistante l'entrata, producendo un brusio simile a quello dei calabroni. Il maestro tirò fuori le mani dalle tasche e chiuse il portone. Afferrò la grande chiave e con decisione diede due mandate prima di estrarla dalla toppa. Uscirono sullo spiazzo tra gli sguardi dei presenti. Uno di loro si avvicinò con l'aria di chiedere spiegazioni del gesto appena visto e infatti disse «Ma il monastero». I due non arrestarono il loro passo ma guardarono l'uomo dritto negli occhi con un modo deciso. Dissero quasi all'unisono «È inutile, è vuoto». Dissessero un sentiero che portava a un rigagnolo e ne seguirono il corso. L'acqua scorreva portando la sua canzone al fitto verde del bosco. Sostarono al fresco di un'isolata fontana e il poeta si rivolse all'amico chiedendo «Che bevi?». L'altro rispose «Acqua». Era ormai il crepuscolo. La sera si approssimava ai bastioni del monastero che restava alle ombre degli alberi. Il poeta curvò con cura un esile stelo e il maestro indicava un sole morente in un limpido cielo. Rimasero a colloquio in silenzio aspettando le stelle. Il principe dei Longobardi Quella mattina il maestro era in compagnia del poeta. Guardavano le nubi al castello e l'effige di marmo regnava tra il silenzio dei giardini. Di mattina i giardini sono vuoti. Si restava a sentire le voci di fredde fontane e la strada sapeva di sale. Il maestro si alzò lentamente il braccio in direzione del colle e fece per indicare quando venne scosso da un urlo proveniente dalle proprie spalle. «Soli me!». Era stato il principe Longobardi ad avere messo quell'urlo e adesso rideva guardando i due amici. Longobardi era l'ultimo erede della grande casata che aveva dominato la città nel medioevo. La sua linea di sangue era stata esaminata dai più eminenti esperti che finirono per certificare la sua discendenza regale. Era il principe ma sembrava più un giullare. I suoi capelli non erano biondi ma gialli. I suoi occhi non erano azzurri. Non era slanciato né molto alto. Era agreste, istrionico, deposto, senza filtri. «Andiamo!». «La barca!» disse il maestro senza distogliere lo sguardo dalle nubi. Longobardi annui con entusiasmo ma subito dopo aggiunse «Io non ce la faccio a tirarla!». Era stanco. Il poeta intanto scriveva su un nero tacuino. Era seduto ad un tavolo di pietra e componeva il cospetto di una coppa di sorbetto al limone. Partirono. Alla guida dell'auto c'era Longobardi che aveva inforcato gli occhiali da sole. Al suo fianco il poeta continuava a comporre e parlava scrivendo. Osservava, trovava un nesso alle cose, disuniva, accordava, coinvolgendo i presenti. Il maestro si era accomodato sulle poltrone posteriori e ascoltava con interesse i due. Scesero per la via che conduce al porto. L'automobile decelerò e Longobardi utilizzò il claxon. Si accostò a due ragazze, cacciò la testa fuori dal finestrino e chiese «Dove andate, belle signorine?». Le due si fermarono. Erano in tenuta da spiaggia. La più bassa rispose in modo stizzito «Andiamo al mare, non si vede?». Allora il poeta si destò, dicendo «Cos'è il mare? Dimmelo», indicando la ragazza che aveva parlato poco prima. E subito aggiunse «Ne ho rubato i colori e li ho chiusi in un ode. Vuoi sentirne gli spruzzi?». Le ragazze sembravano disorientate dalla modalità non convenzionale con cui si stesse evolvendo quello strano incontro, ma al tempo stesso erano incuriosite da quelle strane figure in automobile. Il maestro tese il braccio ed indicò la borsa della ragazza più alta dicendo «È inutile». E subito dopo aggiunse «Non ti serve una borsa se come dici tu vai al mare. Tieni, prendi questa ampolla». E prese dal seggiolino un manufatto in ceramica offrendolo alla ragazza. Subito dopo aggiunse «Colmala d'acqua marina e poi riportamela quando sarà evaporata e vi troverai soltanto il sale». Non ebbe modo di aggiungere altro. Le ragazze si allontanavano a passo svelto mentre Longobardi tentava l'ultima carta, sporgendosi del finestrino e urlando «Andiamo in barca!». Ma era inutile, non sentivano, non capivano, non volevano più ascoltare e già le loro sagume fatte piccine scomparivano dietro una curva. Faceva molto caldo e si doveva ammarare la barca. Longobardi rientrò in auto sorridendo e guardando il poeta disse «Zentraglie». Il poeta guardò il maestro che intanto sgranava gli occhi e i due dissero all'unisono «Zentraglie». Ora il maestro aveva allungato il braccio e rideva. Aveva atteso l'indice al medio della mano destra e con un lento movimento li faceva ruotare lateralmente. Stava facendo il San Francesco. L'automobile grigia percorreva la strada con sicurezza. Il maestro parlava della sua prossima opera. Progettava dei vasi da alici. Non riusciva a dormirci. Le sue notti erano popolate da incubo. Vedeva il mare in tempesta e i pescatori che si adoperavano per tirare le proprie barche a riparo sulla spiaggia. Il molo era preda dell'onda e gli spruzzi salivano alti nel cielo. Il mare era enorme. Cacciava le braccia, migliaia di braccia e urlava. Dava di testa, di spalla. Era irrequieto e quando scendeva nell'aria atterrita, vaporava di sale. Poi il sogno trovava dei contorni sbiaditi e il maestro si trovava al cospetto di un uomo col pizzetto che ogni volta, fissandolo, ripeteva la stessa frase. «Conosci te stesso e scoprirai i segreti dell'universo». L'uomo recava in mano un vaso di alici. Il sogno si interrompeva nel punto in cui il maestro prendeva il vaso dalle sue mani e lo faceva ruotare per osservare il piccolo disegno posto all'incirca quattro dita sotto il bordo. Il sogno svaniva ogni volta, frantumandosi alla luce dell'alba. «È bello», disse il poeta e aggiunse. «Fondamentalmente racchiude il tuo bisogno di indagine, di assenza, di riduzione della realtà amplificata dall'inutile». Longobardi disse «Per me c'è una volontà eccessiva. Devi stare più deposto». Intanto dal finestrino si intravedevano i grandi scogli, chiamati i due fratelli. Erano giunti ed il maestro mise una mano sulla spalla destra del principe e con calma ostentata disse «Ferma la tua vettura». Longobardi urlò «Siamo fermi da dieci minuti, Solimè». Poi scuotendo il capo disse a se stesso «Sbanda, maestro». Il poeta era sceso, osservava dalla ringhiera del belvedere i due massi giganteschi e ne ricordava la leggenda che aveva udito da una vecchia del luogo molti anni prima. Si narrava che un tempo vi erano due fratelli pastori che avevano un piccolo greggio di pecore. I due fratelli vivevano in miseria e le pecore erano l'unica loro fortuna. Un giorno uno dei due venne svegliato dalle urla dell'altro. Si precipitò a guardare e vide che le pecore erano cadute in acqua e che il suo fratello si era tuffato nel disperato tentativo di salvarle. La storia si concluse tragicamente. Anche il secondo fratello si tuffò in acqua e i due annegarono insieme al piccolo greggio. Longobardi si accostò al poeta e come entusiasmato gli disse «Stai creando, è vero? Si vede, si vede che stai creando. Sei agitato, hai gli occhi lucidi, stai a poesia». Il maestro si avvicinò a Longobardi ed indicando il poeta gli disse «Guarda le pecore». Il maestro capiva. Longobardi sembra preso alla sprovvista da quell'affermazione ma poi il risoluto aggiunse «È chiaro, non chiederlo». La barca era sulla spiaggia. Il maestro aveva finito di decorarla pochi giorni prima sul suo terrazzo e con l'aiuto del poeta era riuscito a farla arrivare fino alla spiaggia. Ora bastava trasportarla al mare e assicurarla alla boa. La barca era minuscola, quasi una tinozza, ma sotto i colpi del pennello del maestro. Era diventata unica. Si chiamava Abisso. La scritta era sul lato sinistro, collocata vicino alla prua, ma era contornata da un branco di pesci azzurri, disegnati con arte, che somigliavano a delle alici. Non avevano remi e la spiaggia era ricolma di bagnanti. Il principe iniziò ad urlare «Largo, sta passando l'abisso! Fate largo!». Il poeta prese lo scafo da prua mentre il maestro si posizionò a poppa. Passarono tra la folla alzando l'imbarcazione sopra le loro teste, sotto le grida di incitamento di Longobardi. «Ammarala, ora!» disse il poeta appena giunti a riva. I due fecero cadere Abisso in acqua e subito dopo Longobardi vi si imbarcò, sdraiandosi a poppa. Il maestro si tolse i panni ormai fradici e li piegò con cura. Poi scavò una piccola buca nella sabbia e vi ripose gli indumenti, ricoprendoli lentamente. Rimase in mutande e salì a prua restando in piedi, retto con lo sguardo verso il sole di luglio. Il maestro sembrava una statua. Longobardi remava con le mani e la barca andava lentamente. Il poeta si rivolse ai due e disse «Non vengo!». Il principe si voltò, urlò «Non chiederlo!» e subito dopo riprese a remare. Il poeta si sedette non lontano dalla buca scavata poco prima dal suo amico, aprì il tacquino ed iniziò a scrivere. Scriveva dei versi e ne contava le sillabe con le dita della mano destra. Intanto il maestro si dirigeva verso l'altro capo della costa e Longobardi remava Abisso con entrambe le braccia, storpiando una qualche canzone marinara. Forse andavano a polpi. Dalla spiaggia arrostita il poeta godeva delle onde del mare, delle nuvole d'oro che affrescavano un rosso tramonto. Dirigevano i prodi verso un largo orizzonte e la barca spariva lontano. Il poeta portò la mano sulla fronte per schermarsi dal sole e disse a un passante «Abisso è amare!». L'amma non capì cosa stesse dicendo quell'individuo seduto sulla sabbia e chiese «Come dice?». Il poeta tolse la mano dalla fronte e si rivolse al suo interlocutore e guardandolo fisso negli occhi disse «Il maestro è partito, sull'abisso è salpato ed il principe sceglie le rotte». Poi tese il braccio, indicò lontano verso il mare ed aggiunse «L'orizzonte è lontano, l'avventura li chiama e non temono o bramano morte». Il passante restò in silenzio, scosse la testa due volte, crollò alle spalle e se ne andò. Ormai la sera prendeva il sopravvento e il poeta racimolò qualche sterpo di legno qua e là per accendere un piccolo fuoco. Le stelle brillavano e da lì dovidero nella notte la sagoma di un uomo che al fuoco di un misero falò guardava verso il mare. Sarebbero tornati prima o poi. Il profeta. Il poeta la sveglio da un pezzo. Si rivoltava tra le lenzuola di cotone bianco in mezzo al nero buio della stanza. Solo una lama di luce filtrava dalla malchiusa serranda andando a colpire un punto anonimo di un qualsiasi muro. Gli piaceva attendere in quella posizione una qualunque ispirazione che desse il via alla giornata e quasi per sollecitare la propria fantasia si grattava la testa ascoltando lo strano fruscio provocato dal passaggio delle dita tra i capelli nel silenzio della camera da letto. Era quasi un sollievo quel vuoto che precedeva il frastuono quotidiano, quel perdersi nelle mura spoglie della propria stanza prima che avesse inizio la solita danza, alla ripresa poi di chissà che cosa. Sul tetto la banderuola cambiava direzione a seconda dei capricci del vento e in quello stesso momento cigolava indicando il sud, lì dove di sicuro c'era il mare. Era tempo di andare. L'ispirazione era arrivata. Era di nuovo in strada e procedeva nella vettura verso le verdi terrazze della costa. La primavera era commista agli odori e i colori e la luce del giorno divenivano, man mano che si approssimava l'estate, più chiari, più veri. La notte era passata serena, sopita nell'alcol ingollato nei locali della città. Le facce erano le stesse, sempre uguali, sempre la stessa compagnia, orchestrata dal santo bevitore, che ogni notte dava il via a un di parole slegate, regalate alla strada e dal vento, non necessariamente corredate da un qualsiasi barlume di senso. A quell'ora le strade sono vuote e la carta dei manifesti delle giornate passate inizia a staccarsi dai muri, pendendo in lembi, tormentati dagli sbuffi del vento. Via Roma era sempre la stessa. Passava in rassegno alla solita ressa di gambe, che si rincorrono in un ritmo cadenzato. Le ragazze in minigonna, i passi di un cane, la chitarra che suona, tutto fino al mattino. Esercito in bottiglia verde sul gradino. C'era la solita compagnia della notte, al completo. Il nobile Lanzetti, fiero ed erudito, Longobardi, fragoroso e compagnone. Il nano, figlio, assieme all'elefante elegante, quale accoppiata d'occasione. E poi ancora Zinna ed Angioletto e Stefano con Ciccio e il nipote della signora che vive di rimpetto la vecchia casa di mia nonna, di cui non ricordo mai il nome. Poi ancora sagome di gente spettinata, ai tavoli di legno e agli sgabelli, e ancora i banconi degli alcolici, lucidi in un odore alacre di spirito. Quella mattina il poeta aveva bisogno d'altro. Come in un sogno si era perso tra le bancarelle del mercato, rapito dal loro frastuono e dai colori, dalla faccia da teatro e dai motti dei venditori, per poi ritrovarsi innanzi alla bottega del maestro. L'amico vi si era segregato all'interno, come soleva fare quando era a colloquio col proprio demone d'argilla. Alla maniglia dell'ingresso vera ancora in bella mostra lo straccio unto e rosso, lo stesso dei giorni passati, il segnale visivo che era impegnato e non andava disturbato. Non era ancora tempo di coinvolgerlo in una nuova trovata. Il poeta pose sulla mensola della vetrata il pasto quotidiano, involto in un canovaccio da cucina, e bussò forte tre colpi decisi alla porta, per poi voltarsi e allontanarsi verso la via nazionale. Proprio lì, innanzi al solito fanale, lo attendeva a paccottrice, col suo sorrisetto aperto e schietto in volto. Gli occhi serrati stretti, la barba incolta, a punta, con qualche lieve spruzzo bianco vergato dal tempo, i soliti calzoni grigi e spessi da eterno contadino, e il cappello nero corvino, folto e spettinato al vento, che faceva da cornice ad occhi color del bosco. Il poeta aumentò il suo passo e si diresse svelto verso l'amico, che subito si predispose a principiare il proprio piccolo spettacolo, il suo rituale di benvenuto, oltremodo particolare. Non appena vide il poeta, iniziò a proferire le solite parole, che esprimevano la propria contentezza. «Madonna, e che pesce! E poi, subito dopo, lo devi liberà! Caccialo! E ancora, sei un energumeno! Che animaletto con le zampette!» Fatto questo, il poeta sapeva che mancava soltanto un ultimo passaggio, consistente nella scenica finzione di voler testare il peso e la dimensione degli organi genitali dell'interlocutore, per poi emanare il verdetto riguardante il punteggio raggiunto dall'oggetto delle sue attenzioni, che lui chiamava Paco. Non era proprio una vera perversione, ma soprattutto un modo per richiedere attenzione, un espediente che riusciva a rompere immediatamente il cosiddetto ghiaccio nell'interazione con l'interlocutore. Quell'omone alto e robusto, con gli occhi verdi e la barba, compiva questo invadente gesto in modo assolutamente naturale, anche nei riguardi di perfetti sconosciuti, quasi con la purezza e l'euforia di un bimbo nell'atto di contemplare un segreto. Tutta la compagnia vi si era ormai abituata, e non faceva più caso al fatto che di tanto in tanto, e in modo sempre più raro e occasionale, qualche mano scendeva ad indagare tra le gambe della combricola, nell'intento di riaggiornare i punteggi e le misure. Era un amico. Quel giorno i due raccolsero per strada il principe, che li attendeva straiato e opulento sulle sedie di un bar, tra la calca degli avventori, ai quali estorceva pronostici riguardanti i risultati di alcuni eventi sportivi. Una volta completata la vettura, si diressero alla vecchia torre di guardia, che resisteva ancora ad erchie sopra il mare. Erano i giorni della cova delle uova dei gabbiani, ed il profeta di sicuro sarebbe stato lì ad osservare, a meditare in silenzio, nutrendosi dei raggi che il sole lanciava sulla terra. Una volta lasciata la vettura, giunti al limite della banchina, si poteva seguire il muretto basso di pietra che faceva da parapetto alla strada. Proseguendo giù di lì, avrebbero incontrato di sicuro la sbarra di ferro che delimitava a modo in inghiera un piccolo passaggio tra gli argusti aridi della costa. I tre si introdussero tra la vegetazione a cauti passi, ed iniziarono a seguire il percorso che li avrebbe portati ad aggirare il dorso della collina che dolcemente degradava verso il mare. Il sentiero era vietato agli uomini e passava per la vecchia cava di pietra, da dove un tempo, alle sue pendici, le imbarcazioni da carico prelevavano brandelli di roccia, strappati a forza di esplosioni dalla costa. Le navi poi proseguivano verso sud, superavano il porto e si spingevano lente in direzione della ciminiera, che un tempo fumava dall'opificio del cemento. Per fortuna oggi era terminato questo smantellamento e la cava appariva come in letargo, sventrata al sole, lasciando esplorare ai pochi curiosi le proprie piaghe, ricoperta dagli arbusti di mirto tra sassi e polvere. Erano ormai giunti a metà strada e già Paccottrice era tutto eccitato di essersi calato in quello scenario selvaggio di macchia mediterranea. Fremeva il pensiero di proseguire la sua ricerca ad avvistamento alla palma nana. La giornata era calda e l'omone aveva tolto la maglia. Ora era in calzoni e bretelle e saltellando tra un arbusto e l'altro chiedeva ai compagni a modo indovinello il nome delle piante che incontravano man mano che discendevano. Longobardi era deposto, sudava sotto il sole nell'intento di fare attenzione a dove posizionava i piedi nella discesa. Il poeta procedeva e ogni tanto si rigirava indietro ad osservare il cammino appena fatto. Divertito ascoltava le singolari spiegazioni del pacco e li erudiva sulla specie e la natura di ognuna di quelle piante. Giunsero al tunnel scavato nella roccia e lo attraversarono riuscendo alla luce sul grande spiazzo dove poterono finalmente ricontemplare il profilo della torre che si stagliava sull'azzurro e il bianco delle nuvole del cielo. A quel punto il poeta si fermò, portò due dita alla bocca e fischiò con forza. Pacottrice si scosse sorpreso da quel suono acuto e con espressione interrogativa guardò il principe che con estrema calma e sufficienza esclamò è chiaro sta suonando il campanello. Come infatti subito dopo quel segnale si intravide una sagoma umana far capolino dalla fenditura della parete della costruzione di roccata che adesso agitava in alto il braccio in segno di saluto. Il profeta era in casa e quello era il segnale che il poeta sarebbe stato ricevuto. I tre potevano proseguire verso la torre ed avvicinarsi all'ingresso. Il poeta estrasse dallo zaino una bottiglia di vino rosso sotto lo sguardo compiaciuto di Longobardi e si curvò per oltrepassare l'angusto accesso seguito come un fulmine da pacottrice. Il profeta era lì a torso nudo in costume da bagno adagiato sul platicello verde cresciuto all'interno dei brandelli del rudere. Aveva la schiena rivolta al mare e seduto a gambe incrociate lo stava ad ascoltare. L'estate si lasciava presagire e il profeta meditava respirando serenamente in una posizione ieratica e di contemplazione. La ciambella ricavata da un grosso copertone era adagiata con cura nel suo angolo e fungeva da primitivo mezzo di locomozione che l'uomo col pizzetto usava sopra il mare. Poco dopo il profeta si destò dal suo vagare ed è del benvenuto agli amici. Il poeta pose con cura la bottiglia di vino nelle mani del loro ospite e di rimando e vendono una foglionina di rucola selvatica che portò con attenzione alle labbra al fine di avvertire il sapore fresco e pungente della verdura. Poi si disposero senza dire una parola chi sul prato chi addossato alla parete assolata. Nessuno emetteva alcun rumore nell'attesa che cominciasse spontaneamente la conversazione. Paccottrice era intento a ripetere mentalmente una canzone che parlava di marinaie e delle taverne del porto dove le prostitute adescavano i componenti sparuti di un equipaggio che rientrava a casa dopo mesi di convivenza tra umani dello stesso sesso in alto mare. Longobardi già sdraiato soffiava dalla bocca ed emetteva un sibilo nel lato di russare. Allora fu il poeta a rompere il silenzio. Lentamente tese il braccio e alzando l'indice della mano destra indicò il tetto della torre e rivolgendosi al poeta disse è bianco. L'altro sciolse i capelli dal nastro si accarezzò il pizzetto e come perso nel suo sogno principiò il suo monologo disponendosi per parlare. I gabbiani che seguono il corso del fiume lì dove il ponte di ferro delle locomotive incontra le vetrate dei palazzi più non ritrovano gli spiazzi dove deporre le uova e più non sanno dove procreare. Alla cima dei terrazzi che loro sorvolano attenti più non arriva il sentore del mare. La città è frenetica nei suoi tormenti fatti di rombi e fumi e le urla confuse della strada giungono in alto fino alle gru che stridono innalzandosi sul cemento del porto. Non v'è più un angolo tranquillo né un luogo deposto dove le bianche piume possano riposare. Allora i gabbiani volano in silenzio sopra il mare e giungono a questa torre dove sanno di poter restare e attendere che si schiuda il loro nuovo piumaggio. Io in questi giorni sono qui e osservo. È ormai dagli inizi di maggio che siedo su questa pietra e ne studio il volo e come loro nella mente spicco il mio di volo e poi comprendo il rituale di quelle sentinelle alate che poste a guardia delle covate ruotano in cielo urlandosi messaggi sopra gli sbuffi di sale. Dovevate vedere con quale forza mi respingevano la prima volta che hanno avvertito la mia presenza. Ruotavano nell'aria al di sopra della mia testa senza sosta. Provavano a spaventarmi e a beccarmi per farmi allontanare dai loro piccoli ancora non nati. Ma io sapevo ed imperterrito non mi sono mosso dal mio luogo. Poi il sole è sorto e tramontato per tre volte quando all'alba del quarto giorno mi hanno accettato comprendendo che io non ero lì per disturbare il rituale. Ecco adesso sopra quel tappeto bianco di piume e di cocci di uova schiuse ne è rimasta soltanto una che deve aprirsi per poi volare. Il resto della nidiata l'ha lasciata sola perché è in ritardo rispetto ai tempi della schiusa. Sono tutti volati verso altri luoghi alla ricerca di chissà che cosa e adesso tocca a me attendere che il piccolo ritardatario venga al mondo e non abbia il triste impatto ad essere nato solo. In fondo la vita non è che una piuma soffiata dal vento e le verità si acquisiscono col tempo e l'esperimento. Eppure io non comprendo ancora il mistero di rimanere attaccati morbosamente a questo gioco, a questo strano dono che ognuno ha ricevuto senza aver mai chiesto. L'unica alternativa è il conoscere se stesso e i propri demoni mediante il proprio esperimento. Ma tutto resta imprescindibile all'ottuso e lento viaggio degli uomini scossi soltanto dall'istinto e dalle paure dell'essere animale che segue il proprio corso come nel bianco volo che compiono i gabbiani planando sopra il mare. La luce era ormai al crepuscolo e dalla torre ci si poteva perdere in un arancio acceso come il fuoco. Intorno vi regnava il silenzio e tutto era pace. Il profeta si rivolse sotto la braccia dell'ultimo sole e riprese a respirare guardando verso il mare. Non appena l'uomo rilegò i capelli col nastro e chiuse di nuovo gli occhi nell'atto di contemplare si avvertì il tonfo fragoroso di alcuni calcinazzi caduti pesantemente al suolo. Il principe destatosi dal letargo e impressionato dal racconto cercava di scalare la parete della torre nel goffo tentativo di conquistarne il tetto. Lo si sentiva urlare. Quest'uovo è enorme, è perfetto, sai che frittata. E' chiaro, se facimmo una carbonara in mare. Anche Pacotrice in bretelle era salito al solaio della torre. Era lì che sorrideva nell'intento di controllare il sesso del nascituro e già pregustava il proprio singolare siparietto di benvenuto. Ora i due si affrontavano, si sbracciavano per impedire l'uno all'altro di mettere le mani sul loro nuovo amico. Volarono parole, assurde imprecazioni, bestemmie con spintoni, sberleffi e poi versacci. Ne udirono gli urlacci perfino i pescatori, intenti ai loro affanni, sperduti in alto mare. Il maestro era ormai libero e intento ad osservare. Ritto ed immobile al muretto della strada, poste le mani salde sulla pietra, contemplava lo spettacolo dell'occaso. Ad un tratto, perlustrando con lo sguardo il luogo, scorse come in un gioco d'ombre la zuffa della torre di quegli assurdi pazzi, che tra spintoni e calci sembravano danzare. Sgranò gli occhi ed allargò il sorriso. Indicò la torre col dito teso e disse «è bello». Il poeta è lì che sta a sognare. Il santo bevitore. Quella mattina il maestro era irrequieto. Aveva avvegliato l'intera notte seduto tra le pietre, in attesa che la luce dell'alba lanciasse il primo dardo tra le colonne dei templi. Poi, sopraggiunto il giorno, aveva deciso di proseguire nelle pinete verdi di aghi e licheni ed infine di immergersi nelle acque calme del Poseidonia. Ne avrebbe avuto una gran voglia, ma quello non era il momento di tornare a lavorare al tornio, che riposava lì, nell'angusta stanza spoglia della casa patriarcale di Vietri. Il nobile Lanzetti era già in piedi da un pezzo, quando sentì bussare le nocchie dure del poeta, che chiedevano asilo in compagnia del maestro. Non appena dischiusa la porta, i due amici sentirono le seguenti sincere parole di benvenuto. «Buongiorno, miei cari fratelli, che onore ricevermi nel mio modesto appartamento!» L'uomo era in vestaglia e accolse i suoi ospiti allargando le braccia nell'atto di principiare il suo virile abbraccio, che subito si rinchiuse, catturando le spalle inermi di entrambi. Erano anni che si conoscevano e stimavano a vicenda. L'arazzo che pendeva sul divano era lo stesso delle molte altre volte che erano stati ospiti di quella sala da pranzo. La cornice, che ricordava vagamente il color dell'oro, faceva da perimetro il campo di battaglia, in dove un'infuriata danza aveva luogo tra lo scintillio delle alabarde ritte al cielo e un cozzar di scudi e di armature. Il tutto avveniva sotto le mura del torrione, che faceva da guardia un paesaggio senza tempo. L'intero appartamento era tapezzato alle pareti con dei quadri e gli stipidi montati a vista erano imbottiti di libri. Sulla tavola vera giusto un po' di spazio per un mazzetto di foglie di carta bianca, che sembravano essere una piccola piazza, tra le costruzioni fatte da pile di volumi. Era come se su quella tavola, di volta in volta, si divertisse il caso a modificare il diorama di una città dalle mille torri, dove i vicoli e le viuzze si definivano sul massello di legno. In quella tavola l'unica certezza era la presenza di quella piazza bianca messa lì apposta per raccogliere i versi che di volta in volta vi lasciava il poeta. Ma quella mattina il poeta non era venuto per scrivere né per studiare. Quella mattina nemmeno il mare era riuscito a placare l'irrequietezza del suo amico, che non parlava più né indicava sopra i palazzi dove si affacciano le nuvole. Il poeta era lì alla ricerca di un balsamo che potesse placare l'animo del suo amico, tormentato dalla nottata passata. Ogni volta che tornava in quella casa, ospitato da quell'uomo, il poeta era capace di rimanervi ore intere a parlare, e il più delle volte gli argomenti erano dettati da quell'erudito, che aveva ereditato dalla sua casata pochi beni materiali, ma un mare di sapere che andava snocciolando in lunghe conversazioni. Si disquisiva a volte anche per giornate intere delle storiche battaglie e degli espedienti adoperati nel combattimento, per poi trattare delle usanze del tempo passato della città, delle sue fortificazioni, delle dominazioni e delle antiche rivalità, e poi ancora della strada che porta al castello, delimitato da un rigoglioso sottobosco, e dei giardini a terrazza, in dove si coltivavano le piante officinali che fornivano materia prima alle farmacie medioevali. Un giorno, il nobile, dovete riconoscere a malincuore che il personaggio rumoroso che spesso accompagnava il poeta nel suo vagare fosse l'ultimo discendente della stirpe delle lunghe alabarde, vecchi signori del principato della città. Tra i tanti spunti che offriva quella stanza, il poeta sorrise ricordando quell'episodio, quando in tono solenne sommesso il nobile si vedette costretto a comunicare al diretto interessato il suo alto lignaggio di principe, sentendosi dire per tutta risposta «è chiaro, Longobardi vince, tiè!» Il nobile Lanzetti si accorse subito del malumore del maestro, e tentò di introdurre qualche argomento che potesse testare lo stato d'animo di quell'amico. Ma il maestro non capiva, scrollava la testa e non profferiva parola. Era lì, ma era assente, la mente occupata a cercare un senso da dare al proprio percorso. Era da tempo che voleva confrontarsi con se stesso per esplorare il vero significato della sua esistenza, e la grande sfida era tradurre questa ricerca nel morbido contatto con l'argilla. Il maestro pensava «ogni cosa, anche la più occupa, brilla quando ha raggiunto il senso della sua esistenza, ma allora perché io non comprendo? E senza questa scintilla non posso procedere per il mio cammino. Cosa io rappresento? In questo istante sono privo di significato per me stesso, e adesso in questo limbo cerco una fiamma per la mia risoluzione». Il poeta sapeva cosa stesse succedendo ed era calmo, confidava che a breve l'amico avrebbe compreso. Mentre esso stavano nel corridoio, di sotto il piccolo arco di gesso, il maestro si sentì urtare all'altezza del sedere, tanto che si voltò di scatto, sorpreso, e a controllare se in quell'appartamento fosse arrivato opaco. Era stato Cavallo, il destriero meticcio del nobile Lanzetti, che non avendo spazio e senza più un maneggio, chiamava il cane bianco col nome di Cavallo. Indossata immediatamente la giubba verde militare, come se fosse stata un'armatura, il nobile aprì di colpo la serratura dell'ingresso, e subito i quattro si precipitarono giù per le scale. Quello di prima era il segnale, che il Cavallo Bianco aveva la vescica che stesse principiando un ballo, e prima di un minuto avrebbe liberato il nobile Ruscello sopra il terriccio amato, tra le urla di bambini e anziani addormentati, nei giardinetti pensili e ai margini dei prati. Il poeta alzò gli occhi al cielo e grattandosi la punta del naso esclamò «Ho trovato! Il santo bevitore!» e poi aggiunse «Forza ragazzi, andiamo! Tutti al nuovo bar Colombo!» E tre si incamminarono, e giunti ai margini della contrada, lì dove erano segnati i confini del torrione, il nobile col cavallo ebbe un'esclamazione di piacere, nell'atto di vedere poggiato alla serranda, il santo bevitore che tracannava birra. La leggenda voleva che il santo stesse sempre in compagnia delle più disparate persone e che intorno avesse come un frenetico carosello di uomini e di donne, che per venire a capo dei propri dubbi e affanni dovesse rubriacare il santo, che parlando avrebbe aperto il varco ad una soluzione. Si raccontava inoltre che il santo bevitore avesse quattro fegate e un grande e enorme cuore che apriva alla sua gente in cambio di un attenez. Tutti gli abitanti del luogo gli riconoscevano doti da oracolo e tutti riscontravano gli effetti rinfrancanti della sua compagnia. Quasi una terapia per gente che affannata vagava alla ricerca di un'ultima trovata. Il poeta risoluto entrò nel bar seguito dai suoi amici e rivolgendosi al titolare stava per ordinare, quando sentì la voce del Lanzetti, che dopo aver assicurato cavallo alla gamba del flipper disse «Zio, tre tenets ed una sbobba, grazie». Le birre le prendo io dal frigo e metti tutto su mio conto. Fatto il carico di munizioni, si diressero verso il frenetico carosello che turbinava senza sosta nei pressi dell'imposta che faceva da entrata a quel locale. Il poeta spinse in avanti il maestro, dicendogli «Segu girotondo, sarò io al tuo fianco quando sarà il momento giusto in cui il santo avrà soltanto il vetro vuoto. Offrigli la bottiglia e inizierà a parlare». Quella strana danza somigliava alle giornate grigie, in cui il mare sbatte sopra i profili della costa e le boe in circolo vengono fatte ruotare con forza. I poeta ed il nobile, quasi a protezione, si disposero ai lati del maestro, a mo' di scorta, che come ipnotizzato da quel girotondo sgranava gli occhi ed era attento ad ascoltare le parole che il santo pronunciava senza alcun senso, bevendo birra con l'interlocutore di turno. Erano ormai nel gorgo e tutto intorno c'era gente che spingeva e cercava di guadagnare posizioni. Verano i due garzoni della panetteria, che chiedevano da anni i numeri da giocare all'otto, l'amministratore del condominio che non sapeva più come sfruttare la vecchia signora del piano di sotto, il medico, preoccupato per non aver ancora fittato un posto chiuso per la sua nuova vettura, il negoziante di verdura che era stato appena mollato dall'amante, il caso imbarazzante del professore, che non volendo essere operato al pacco emorroidale, stava lì ad aspettare che il santo bevitore potesse consigliargli qualche rimedio strano per quella triste istanza che gli opprimeva l'ano. Tutto a un tratto il maestro si destò dal suo vagare e velocemente come un lampo mise la sua bottiglia nella mano del santo gridando forte. Non capisco! Quell'urlo fu come un sibilo, un fisco lanciato al cielo, come uno stop per quella folla che si arrestò immediatamente. Il santo bevitore beve di botto un'altra tenezza ed uscì fuori dalla ressa, invitando il maestro a seguirlo. Quello che successe dopo nessuno seppe mai narrarlo, perché i due si allontanarono in direzione della paninoteca, dove si udì la voce del santo ordinare, un Socrate più piccante. Il maestro era guarito, tornò a casa un mercoledì, barcollante ma con un gran sorriso dipinto in volto. Dopo il suo giro vagare, che durò tre giorni, riferì al poeta come, in un sogno confuso, che non erano le parole che il santo proferiva a dare una soluzione e che forse per la vita non ne esisteva alcuna, ma bisognava stare in giro tondo e bisogna ridere, ridere sempre e comunque, sia col sole che con la luna. Ridere di tutto anche se il vento a volte soffia forte e mischia i fili tra i capelli. I giorni sono tutti belli ed il segreto è viverli come fanno i fanciulli, ancora candidi, ancora crudi, in giro tondo, a piedi nudi. Il maestro si congedò dall'amico e ritornò al suo tornio, che stava ad aspettare nella sua vecchia stanza, che dava sopra il mare. Erano liberi. L'elefante e il nano. Le bandiere sbucavano dalla cima circolare dell'enorme capannone di un colore rosso sbiadito e si agitavano al primo cielo d'autunno, che dalla piazza del parcheggio sostava sopra il mare. Affacciato al piccolo balcone, il poeta era intento a sorseggiare il caffè, ancora caldo, alzando di tanto in tanto la tazzina in direzione del campanile del vecchio duomo, come nell'atto di porgere un saluto. Proprio in quell'istante avvertì il rumore dei primi colpi di martello, che provenivano dal basso in direzione del piccolo ingresso. La giornata era pulita e il cielo era terzo. Da tempo stava ad osservare le linee del golfo, che in un semicerchio delimitavano la città, bagnata dalle onde. Era un sollievo per lo spirito, restare a contemplare il verde delle gobbe delle montagne, che dolcemente declinavano in un azzurro denso, calmo come il cielo dalle poche nuvole, che sembravano sbuffate dai vaporetti nei pressi del porto. L'edera era ben salda alla ringhiera del terrazzo, e il suo verde si arrampicava alla parete, lì dove vi era il chiodo del paniera in vimini, che legato ad una corda serviva da montacarichi per la spesa, che giornalmente ripeteva lo stesso percorso, che partiva dalla bottega del vicolo dei mercati, fino alle vetrate antiche di quella casa. Il garzone tirava un sassolino all'imposta, e il poeta si affacciava in posa con il berretto da marinaio, e come se stesse armeggiando con le vele di un battello, calava il paniere per poi recuperarlo carico di provviste al suono di «Oh, issa! Oh, issa!». Quella mattina il garzone non dovette esercitarsi al lancio del sassolino. Il poeta era già pronto, lì, col piede poggiato sul gradino di marmo, e aveva già la corda tra le sue mani. Lo aveva visto arrivare tra le curve in salita del vicolo, e lo aveva seguito con lo sguardo nei suoi continui nascondini dettati dal percorso, fino a quando non le aveva viste sbucare dall'ultimo tornante. Una volta sistemate le provviste sulla tavola, il poeta decise di scendere per iniziare a camminare in direzione di quelle bandiere che erano spuntate nel bel mezzo della notte. Bisognava indagare. Chiusa la porta di casa, iniziò a scendere con attenzione la rampa dei gradini che portava al portoncino d'ingresso. Cercava di evitare ogni rumore che potesse disturbare il sonno diurno della megera che abitava nei locali del pian terreno. La scopa di saggina riposta al fianco dei battenti della consunta porta di legno era il segno che le faccende della notte erano state sbrigate. La donna aveva ancora una volta spazzato il vicolo e ripulito l'intero atrio del minuscolo palazzo posto ai piedi delle scale pubbliche, che portavano alla vecchia costruzione della dismessa casa circondariale. Il poeta superò la porta di colei che in cuor suo fosse la strega e chiuse delicatamente alle sue spalle il portoncino prima di voltarsi verso la luce del giorno. Non appena fu all'esterno si trovò faccia a faccia e ad un palmo dal naso del maestro, che stava lucidando la targa di ceramica che poco prima, con le proprie mani, aveva assicurato con quattro chiodi da carpentiere alla parete adiacente all'ingresso dell'abitato. Adesso, con un panno di cotone ricavato di sicuro da qualche vecchio indumento, ne lucidava la scritta che recitava «Non chiederci la soluzione, posso darti soltanto illusioni, come le onde bianche che si rincorrono sotto le nuvole del vespro». Il maestro pose con cura lo straccio sul muretto di pietra, indicò col dito teso il capannone e rivolgendosi all'amico disse «Andiamo». Giù per la strada le mura dei palazzi erano calde e l'estate resisteva in barba al calendario. Non verano foglie secche sul selciato e ai lati delle scale della cattedrale verano ancora i due leoni di marmo che montavano la guardia. Tutto d'intorno verano fiori addobbi che avrebbero fatto da decorazione alla tradizionale processione in onore del santo patrono della città. Il maestro guardò e indicò ai manichini che di lì a breve sarebbero stati portati per le strade principali del capoluogo. Perché restano dei pupazzi chiamandoli santi? Chiese ad un'anziana signora che lo guardò stranita e subito dopo li prese a confabulare con le altre componenti del proprio gruppetto dandogli le spalle. Non capiva o forse non voleva capire ma ormai non c'era più tempo per approfondire l'argomento. Già il vento di maestra si era levato ed adesso portava tra i palazzi un alito di mare giocando coi panni che pendevano bianchi dalle inferriate dei balconi. Giunti al negozio della drogheria che faceva ad angolo decisero di svoltare verso sinistra per poi superare agilmente il dedalo di chiesa e di viuzze che si parava dinnanzi ai loro occhi. Una volta nei pressi della stazione ferroviaria decisero di proseguire verso il lungo mare e girando l'angolo dell'ultimo palazzo del corso videro stagliarsi come un'enorme mongolfiera grassa il rosso tendone del circo. Erano giunti ad era tempo di agire. Ormai in prossimità di quella grande tenda i due si scambiarono un rapido sguardo d'intesa e subito iniziarono a perlustrarne l'intero perimetro procedendo con l'andatura svelta chi da un lato chi dall'altro. L'unico ingresso era quello posto nel punto dove erano partiti. Se ne accorsero quando urtarono con forza le loro teste una contro l'altra una volta completato il giro. Il maestro si rialzò da terra ed indifferente dette una veloce spolverata con la mano al suo trench. Le tende somigliavano a delle lenzuole pesanti di flanella messe a chiusura di un enorme boccaporto che serviva ad accesso alla struttura. Quello era orario di chiusura ma dall'interno si potevano ascoltare il suono di due voci distinte che sembravano dialogare con acuti e versi commisti a parole di comando. Ne seguivano rifiuti intercalati da tonfi che squassavano il terreno facendo tremare l'enorme capanna. Il poeta non seppe resistere ed aprì la tenda per intrufolarvi il grande naso e constatare quello che stava succedendo. Ovviamente anche il maestro si portò all'interno con un balzo da ballerino. Appena discuse le tende come si fa per un grande sipario i due potettero contemplare lo spettacolo delle tribune vuote e delle due figure al centro della pista. Luna pesante enorme appollaiata su una specie di grande scabello di ferro l'altra minuta di statura e si muoveva a scatti in semicerchio tenendo nella mano destra qualcosa che rassomigliava a un panino imbottito che sventolava sotto il naso dell'altro. L'elefante era garbato elegante e stanco di essere trattato a quel modo era ormai monotono quel gioco a cui lo sottoponeva il nano per il gusto di vederlo protestare. L'elefante elegante era un grande mangiatore con garbo si muoveva tra le provviste della tenda e ingurgitava qualsiasi leccornia gli capitasse a tiro. Quel giorno non aveva saputo resistere e aveva vuotato di nuovo il grande frigo del circo al suono delicato delle sue macelle. Era una maledizione quella fame senza sosta. Si narrava che un giorno avesse iniziato a vagare per le osterie della costa munito di cilindro mangiando e ordinando pietanze che sul desco sfilavano in parata per dopo terminare nelle sue enormi fauci profonde come il mare. Gli avventori dei locali restavano incantati nel vedere lo spettacolo di un enorme personaggio che con maniera e garbo mangiava tutto quanto. Fu così che il piccolo figlio del proprietario del circo aveva convinto l'elegante elefante a esibirsi in un numero in cui sfoggiava le proprie doti di insaziabile divoratore denanzi al pubblico pagante. Avevano orchestrato delle gag a modi clown dove il nano interpretava il pagliaccio bianco e l'altro l'augusto. Ma col passare del tempo sia loro che il pubblico avevano perso gusto di quella messa in scena ed il numero era stato accantonato. Nel frattempo però l'elefante e il nano avevano legato e continuavano a seguire la carovana nei loro vari spostamenti. Ad un tratto mentre i due si producevano nel solito repertorio entrò il direttore del circo vestito di tutto punto con cravatta a farfalle con panciotto con abito a coda di rondine e con cilindro che interruppe la disputa che aveva vita al centro della pista iniziando ad urlare come un forsennato. Non è possibile è ricapitato ancora una volta ma adesso basta. Il frigorifero è della compagnia e sebbene io ti abbia dato il permesso di restare anche se non apporti più ormai alcun contributo. Adesso mi vedo costretto a dirti che devi andare. Oltre non posso tollerare la tua fame. I nostri conti sono quasi a rosso e tu non smetti di mangiare. Vattene non possiamo mantenerti sarebbe comportarsi da pazzi. Io so che non hai colpa e che è una condanna ma è rotta ormai la corda e adesso devi andare. Non appena sentite queste parole l'elefante si alzò dallo scanno con dignità e fatto un bel inchino incominciò a camminare in direzione dell'uscita. Il nano che ormai non concepiva più una vita senza la compagnia del suo amico fraterno si recò anche egli all'esterno per proseguire a stuzzicarlo. A nulla valsero le parole del vecchio padre che era rimasto al centro della pista. La tenda si richiusa senza che nessuno dei due si girasse più a guardare. Subito il maestro si diresse verso i due personaggi che avevano appena abbandonato le tende della ribalta ed iniziò ad osservare l'omone da vicino cercando di recuperare quante più informazioni possibili dai lineamenti e dai movimenti che adesso manifestava per la strada. Intanto i due circensi erano intenti al solito giochetto. Il nano sventolava il solito panino sotto il naso dell'elefante dicendo dai dagli un morso forza lo sai che è buono e dopo aggiungeva guarda lì una rosticceria comprati un calzone e una pizzetta. Ya vedi che poi dopo ti riviene la fame. Guarda che bella vetrina! Mangiati un gelato! L'elefante rispondeva con versi e ad ogni istigazione da parte del compagno passava dall'indecisione di un risoluto scatto in avanti per afferrare il panino a quella di cambiare direzione in corrispondenza del luogo che di volta in volta gli veniva indicato. Il maestro si avvicinò ai due risoluto a voler finalmente colloquiare. Voleva comprendere quale invisibile catena teneva legati quei due personaggi così diversi. Voleva comprendere quale invisibile catena teneva legati quei due personaggi così diversi che dietro la parata degli scherni di sorta sembravano nascondere la necessità di quella inseparabile convivenza. Non appena fu alla distanza adatta per essere udito il maestro allungò il dito ad indicare la diradata chioma dell'elefante dove i capelli fuggivano via lasciando una fronte alta e corrugata e disse questa testa va rasata e la barba va portata più folta e dopo aggiunse all'energumeno appena voltatosi per vedere chi fosse quell'interlocutore il tuo aspetto va curato perché anche se il più prezioso dono va nascosto come nella pancia di un vaso l'opera esteriore deve essere corredata da gradevoli canoni estetici che predispongono al vero contenuto. A che ora chiese l'elefante e proseguì dritto senza concedergli troppa attenzione ma il maestro non era disposto a mollare la preda e gli andò dietro continuando ad osservare. Passarono dei ragazzi in motorino che indicarono il molo. Il maestro indicò loro all'elefante che sembrava non accorgerci di cosa gli capitasse intorno rapito da chissà quale ossessionante pensiero. Sempre in movimento i due precedevano il gruppetto di persone che li accompagnava ai quali si erano aggiunti il poeta ed il nano che adesso confabulavano. Il maestro chiese in tono imperativo all'elefante parlami della luna ma il grande mammifero non sembrava rispondere agli stimoli che venivano da quell'individuo e proseguiva a camminare indagando con sguardo mesto le vetrine del corso. Fu allora che il poeta dopo aver fatto un cenno al nano avanzò il passo e superò i due che ripetevano la scena di prima. Il poeta si imbucò in un locale da dove ne uscì con un calzone fritto che sventolò sotto il naso dell'elefante. Questi subito iniziò ad emettere dei versi che stavano ad indicare la richiesta immediata di quel cibo. Non appena le grandi fauci furono in possesso di quella leccornia l'elefante si girò verso il maestro e cominciò a parlare. La luna di certo è un satellite della terra e ha influenza sul mare ma è anche il primo posto dei pensieri degli innamorati. Le persone sospirano alla luna nelle serate d'estate quando i profumi sono intensi e i sentimenti seguono il filo dell'emozione. In letteratura fu presa in prestito come ambientazione del senno di Orlando e poi come spoglio scenario di atterraggio di una bandiera a stelle e strisce che sapeva di molta propaganda. Per me la luna a volte è come un dramma e a volte è come una bella nonna che ti sorride dalle guance grosse e tonde. Per te invece è l'invito all'instancabile riflessione su te stesso e poi è la lotta col tuo demone che in tutta probabilità resterà irrisolta. Dopo aver detto queste parole il filosofo ingombrante riprese il suo silenzio e la sua ricerca tra le vetrine. A tutti fu chiaro il meccanismo di quello strano gioco che si azionava con semplici gesti. Il gioco viveva delle pretese della gente che desiderosa di ottenere una risposta ai propri assillanti quesiti si affidava ad un elefante che appariva elegante e sapiente. Era questo il motivo per cui il nano che non riusciva a decidere da che parte andare con la scusa di stuzzicare l'elefante che doveva perennemente mangiare lo seguiva e nel seguirlo gli rimaneva attaccato per la vita. La sera scendeva e si adagiava pesante alla collina del castello. Il mare imbruniva lento in uno scavalcarsi d'ombre. I lampioni già iniziavano a prendere il colore dell'arancio e le poche foglie si rincorrevano mosse dalle folate della brezza. Il poeta si fermò sul pontile e credette di capire. Sorrise vedendo il maestro e il nano che per un motivo o per l'altro porgevano cibarie interrogando quell'energumeno che si accendeva per poi rispegnersi come azionato da un invisibile interruttore. Quella sera il poeta fumò per ore pensando al fatto che la ricerca è lunga e tortuosa e che ogni cosa ha la sua importanza e che perfino un'improbabile danza fatta di uomini folli ad intermittenza possa regalare la speranza della comprensione. Era ormai tardi e si doveva rincasare. Accompagnarono i due a una piccola pensione e dopo aver provveduto alle cibarie li salutarono con una promessa di non tornare. Brandelli del diario dell'ultimo viaggio Lo sguardo alto e immobile ritto in direzione della prora. Il maestro indossava ancora una volta il trench al timone dell'ultima trovata. Il bonpresso era sferzato dal fiato del vento che li spingeva in un azzurro che impiva i loro occhi e polmoni regalando lacrime di sale alla scapigliatura delle chiome. Non verono parole per quello che per qualcuno sarebbe stato l'ultimo viaggio. A mano a mano l'equipaggio si era formato e più nessuno mancava ormai all'appello. Il poeta portava un grosso cappello di paglia con un nastro di seta nero attorcigliato. Poco più in là surgeva fiero il nobile Lanzetti che carezzava i crini bianchi della chioma del cavallo noleggiato per l'occasione. A poppa paccottrice aveva tra le mani un cesto giallo in dove aveva accomodato con cura radici e semi per il viaggio. Il profeta era in preda al solito miraggio di isole popolate da indigeni di somma consapevolezza. Il santo bevitore tracannava birra con leggerezza propinando futili storie agli sbruffi del vento. Salvatore, poggiato al parapetto, cercava attento tra la brezza la luce adatta alla sua foto. Zinna ed Angioletto dediti al room si concedevano al gioco dei dadi ed il vecchio cuoco sorrideva passando alla memoria le immagini di un goliardico passato. Il sole era già alto e il giorno prima se n'era andato come sarebbe stato per quello ancora in corso. Lo scorrere del tempo aveva lasciato i segni sull'intera compagnia. L'aria era cambiata. Non vera più la sfida di una nuova trovata che regnava sullo spirito del gruppo. Il poeta era quasi muto del tutto. Da mesi si era ridotto all'utilizzo di una manciata di parole che adesso erano l'essenza di ogni suo possibile componimento. Non più un verso né un commento superfluo. Il suo vocabolario si era ridotto all'osso e più passava il tempo e meno parole riuscivano ad affiorare. Fino a quando un bel giorno non seppe dire null'altro che la parola mare. L'albero di maestra gonfiava una vela candida come una coperta di lino. Paccottrice era un bambino che nudo si aggirava sul ponte di comando. Saltava serrando gli occhi e ballando si accingeva ad indossare le sue bretelle usate. Il profeta rammendava una rete e beveva dalla borraccia di pelle il nettare di ambrogia che egli stesso aveva preparato. Il nobile equipaggiato con cimiero d'armatura era affurente sognando di approdare in riva la città murata. La tenenza era bastata quasi per l'intero percorso del viaggio e adesso si appressava il molo ai loro occhi. Il santo bevitore barcollando guardava oltre la scogliera in cerca di una qualunque locanda in cui stabilire il proprio comando e intanto faceva rullar per cieli alle sue dita sull'armatura luccicante del nobile lanzetti. Salvatore tagliava a pezzetti dei fogli di carta ingiallita disperdendoli a modi petali sull'acqua limpide come una coppa di cristallo. Appena in porto e in stallo il maestro azionò il comando e fece per disporre la tavola per il passaggio. Fu come un segnale per l'intero equipaggio in attesa di toccare terra. Per prima sudirono gli zoccoli del cavallo bianco che subito sparì tra i vicoli del luogo. Barcollando a braccetto del cuoco toccò col calcagno e il molo il santo bevitore. Paccottrice seguì la compagnia assieme a Salvatore intenti ad osservare la luce artificiale proiettata dall'enorme faro. Il maestro e il poeta ricordarono il varo dell'ultima trovata e già pensavano al giorno in cui l'avrebbero abbandonata alla deriva tra i flutti della costa. Al momento la città di Ilbelt era una vaga proposta fatta di dedali di scale di marmo con le alzate basse dei gradini. I bambini giocavano con dei sassi all'ombra degli edifici di pietra color del miele. Le punte delle chiese s'alzavano serene sopra i vicoli delle botteghe con le verande in legno verniciato. A completare il quadro era adesso il colore del mare dorato disteso come uno specchio lucido al tramonto. In quell'attimo il mondo somigliava a un paradiso di pace. Il profeta era seduto incapace di muoversi nell'atto di ricevere gli ultimi raggi del sole. La compagnia si era dileguata ma quei due ricordavano la loro missione da compiere prima che morisse del tutto il giorno. Si guardarono intorno e subito individuarono il loro obiettivo. Longobardi il principe Cuocos seduto su di un gradino dava gli ultimi morsi a un tozzo di pane. Di lontano in fondo alla strada latrava un cane e le lanterne della sera prendevano voci dalle fessure dei palazzi. I tre si diressero come pazzi lungo la strada principale per poi svanire in un anflatto. Il portone di legno era sbarrato e nell'atto di alzare gli occhi per verificare se fosse affacciato qualche d'uno il maestro lesse l'insegna che campeggiava in cima all'edificio e disse il posto è questo che inizi il nostro ufficio. Così dicendo affrontarono le scale di quello che sembrava essere un misero convento. Tra le rampe era il vento a portare gli odori vetusti provenienti dal piano superiore. Alla fine dei trecento gradini le suore erano bianche nel cotone come fantasmi al far della sera. La primavera era ormai alle porte e le celle di raccoglimento erano immerse nella luce proveniente dalla sfera della luna. Adagiarono il cuocos di un pagliericcio di fortuna proprio dietro i cardini di legno della porta. Per bagno vera una tazza e una sorta di pianta saliva lungo la parete partendo dal raso sbiadito di un piccolo confessionale fino ad arrivare ai piedi di un Cristo che restava inchiodato nella sua croce. I due scostarono lentamente lo scuro. I due scostarono lentamente lo scuro che nascondeva le sbarre della finestra che dava sulla darsena del porto. Ormai ogni cosa era morta in quelle stanze e solo si avvertiva come in sogno lo sventolio delle tuniche che producevano un fruscio tra gli olezzi dell'incenso. Non vera più tempo per incertezze né per nessun ripensamento. Un rapido sguardo d'intesa bastò a scaraventarli giù per le scale. Era tempo di andare. Il maestro e il poeta correndo percorsero a ritroso le strade della città dei cavalieri incrociando il destriero del nobile Lanzetti. I busti delle statue dei santi eretti agli angoli dei vicoli sembravano indicare loro l'uscita, lo sbocco verso il mare. Alla banchina verrà ormai il resto della ciurma che s'era radunata e si apprestava a salpare. Il pacco s'agitava conversando ad alta voce con profeta Celano. Zin e Dancioletto erano rimasti a tirare i dadi, nascosti in un vano al lume di una candela ormai consunta. Salvatore era a prua, lucidava la punta della polena che adesso indicava i due che si affannavano alla corsa. In un attimo il nobile diede una scossa alle redini del suo destriero e nel contempo sollevò per la collottola il santo bevitore. Sudì un fragore di zoccoli e i due saltarono sul ponte di legno mentre venivano sciolti gli ormeggi. Già la vela cedeva ai solfeggi dello scirocco che tiepido spingeva il vascello verso il largo in direzione di quella che un tempo chiamavano casa. La tavola rasa in cui era immersa la chiglia li trasportava di nuovo al largo, lontano in alto mare. Solo il poeta si volse a guardare il luccichio della luna che batteva i suoi raggi alle inferiate di una minuscola finestra, da dove si affacciava un misero trappo giallo che agitandosi al blu intenso della sera sembrava lentamente salutare. Il gioco. Il mare era sempre lì disteso ai confini della costa. Era notte e due ombre si allungavano sulla striscia di spiaggia che faceva di ingresso alla corsia delle boe. Il maestro guardava il cielo, riconosceva le costellazioni, seguiva il disegno delle stelle che splendevano con difficoltà, affogate dalle luci spettrali del porto. Non riusciva a capacitarsi. La notte non aveva più il suo respiro, violentata dall'ambra degli enormi lampioni che sissavano in alto, imponenti dai moli. La città non dorme, disse ad un tratto l'ombra rivolgendosi al poeta. Il vento d'estate s'alzava a tratti spruzzando gocce di mare, quasi un lacrimare alternato e costante che donava la sera ai due antichi figuri. Erano soli, i remi conficcati nella sabbia ed entrambi a fissare la danza di immobile inattesa del vento. Era tempo di andare. Tuffati, disse il poeta, squadrando con lo sguardo l'altro dall'alto verso il basso. Ma il maestro era già in acqua, aveva tolto con calma i suoi indumenti e li aveva sotterrati vicino a un massetto di cemento. Si era immerso al punto che l'acqua gli raggiungesse il ventre e aveva abbracciato i suoi remi. Dopo aver fissato a lungo la costa, il maestro principò a nuotare verso la barca che attendeva alla boa. Il poeta sognava. Non contava una casa, né contava tornare. Il poeta era il mare. Nel frattempo egli soffiava in alto il fumo della sigaretta, osservando la piccola chiesa che si affacciava da un dirbo della costa. Anche egli, con le gambe in acqua, provava piacere a quel contatto, quasi un approcciarsi alla vita, come quando dopo anni si ritorna in un luogo che sembrava dimenticato. Il poeta sussurrava parole alle stelle, quando furtato dalla prora di immobile, governata da un'ombra che sembrava il maestro. Un'ombra alta, magra, ricurva sui remi che adesso accennava all'amico invitandolo a salpare. Furono ancora una volta in alto mare. La notte lì era più vera. Si avvertiva il disagio del buio, del vuoto intorno al profilo del piccolo scafo. Le onde li cullavano nel silenzio del mondo trasportandoli alla deriva. Era il solito gioco. Si spingevano lontani dalla costa e una volta in alto mare ritraevano i remi in barca e si lasciavano trasportare. Senza avere una meta tra danze del mare, senza dire parola ma restando a guardare ed attenti ad udire ogni voce lontana, ogni singolo battito del momento presente, il maestro del vuoto e il poeta del niente. Quella volta non si fermarono. Ne avevano parlato di rado ma quella notte si erano osservati a lungo e senza il bisogno di proferire parole decisero in silenzio di andare oltre. Non tornarono a terra ma rimasero immobili, spinti dalla corrente fino ad essere un piccolo punto, lontano. Chissà poi se finiva il mare. Era tempo di andare. Già spirava la brezza. Vera il canto del mare, una lieve carezza, che donava la sera ai due antichi figuri, al poeta del niente, al maestro di fuori. E li videro, a vespro, come un punto lontano, tra le danze dell'onda e indicare con mano una meta che manca, un paese non nato. Che narrava il poeta al maestro malato, spinti poi alla deriva, non si seppe più niente. Ma al calar della sera, certe notti, si sente un lamento di versi provenire da oriente e galleggia sull'acque un'ampolla di creta che racchiude le righe di una storia segreta. Lo ripetevano in delirio ai marinai che li ripescarono alcuni giorni dopo, all'argo di una nave da cruciera. Erano liberi. Epilogo. Il maestro moriva nel suo letto. Moriva ma non ne aveva angoscia. Le stelle erano alte nel cielo e il vento sussurrava le sole parole che appartengono ad un uomo del suo genere. Il maestro non era più un ragazzino. Gli anni erano passati ma non contavano. Il suo volto era sempre pervaso dal sogno del proprio demone e quella notte sarebbe morto assieme a lui. Il maestro finiva di sbandare e nel punto del trapasso non fu l'agonia a prendere il sopravvento, ma l'immagine del poeta che lo chiamava tendendo il braccio teso, facendo roteare lentamente l'indice e il medio, come quando un tempo solevano giocare, deridendo qualcuno di passaggio. Il maestro rise nel suo letto e al momento del trapasso, col suo ultimo respiro, riusci a dire è bello. Grazie. 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 Grazie.